Lo sapevate che di un documento Crystal Report o Web Intelligence o qualunque altro documento contenuto in BI Launchpad potete realizzare un collegamento alla stregua di un collegamento su Windows, ad esempio Format in sample, organizza, copia collegamento, ma meglio ancora, crea collegamento nei preferiti collegamento a Format in sample, quando Format in sample cambierà voi avrete evidentemente il collegamento al documento originale